Sala rossa delle comune di Pesaro, giovedì 8 luglio, luogo e data della prima apparizione pubblica della Vis Pesaro 2020-2021. Una stagione che comincia con la presentazione del nuovo allenatore Marco Banchini, classe 1980, Lombardo di Vigevano, che il 18 luglio comincerà dal ritiro di Chianciano Terme, la sua avventura con la Vis Pesaro, un'avventura alla Vis che arriva dopo due stagioni e mezzo al Como. La prima culminata con la vittoria del campionato di Serie D, la seconda con una bella salvezza, la terza interrotta anzitempo con un esonero, ma questo è il passato, il presente si chiama Vis Pesaro e ascoltiamo appunto le prime parole di Marco Banchini, da nuovo allenatore della Vis. Oggi è il suo primo giorno, chiamiamolo così, pubblico a Pesaro, ma di fatto il suo accostamento alla Vis è noto da maggio, un periodo in cui ha avuto tempo di studiare, l'ha detto già in conferma stampa, l'ambiente, quali sono le sensazioni che ha potuto carpire di quella che sarà questa stagione a Pesaro e seconda cosa, mancano dieci giorni al ritiro, a che punto siamo? Allora, hai detto bene, io... Gli analisi sono... Eh ma è giusto, all'inizio di giugno abbiamo trovato le condizioni per poi affrontare il nuovo percorso insieme al Presidente, quindi all'inizio di giugno, fine maggio eravamo già comunque più o meno d'accordo, dopodiché penso manca un giocatore solo, però non vi voglio dire niente perché, ripeto, è la società della dirigenza a tirar fuori i nomi, abbiamo fatto diverse trattative e questo, ripeto, di programmare è stato sicuramente un aspetto positivo perché è tutto il mese che lavoriamo, io credo che a volte dei giocatori li devi prendere all'inizio del mercato per fargli capire quanto sono importanti per te e invece quelli che ti dicono che però dobbiamo aspettare per vedere magari non hanno tutta quella voglia di venire. Ecco, per quelli che saranno i primi giorni d'allenamento, quali sono i primi pensieri, quelli in cima alla piramide del banchini allenatore, che andranno trasferiti nelle teste dei giocatori? Io penso che nel calcio oramai e nel metodo di lavoro bisogna lavorare su dei principi, ecco perché non sono legato a un sistema. I principi sicuramente vanno scelti per le varie fasi di gioco, quindi abbiamo una fase di possesso che a me piace definire verticale, penso che qualcuno che mi conosce lo abbia già fatto, perché l'obiettivo delle partite è fare gol, quindi bisogna andare in avanti, bisogna andare in avanti con la palla, bisogna andare in avanti senza, però bisogna saper riconoscere i momenti di difficoltà delle partite perché dentro una partita ce ne sono infinite. E a me piace parlare di organizzare l'imprevisto, quindi l'obiettivo delle prime settimane è organizzare l'imprevisto, che la partita e il momento della stagione ti può creare. Dopodiché fare un ritiro due settimane, comunque in una struttura adeguata dove puoi lavorare, consentirà di fare anche quella unità di intenti e senso di gruppo che c'è nel momento in cui esci dal campo, perché questo è fondamentale.